Prevedere una capillare campagna di informazione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le nuove generazioni sull'importanza della cultura dell'emergenza cardiologica e il senso di una mozione proposta dal Consigliere Napoli, sottoscritta anche dai consiglieri Bradascio e Galante, sull'obbligo di una dotazione di defibrillatori per le società sportive dilettantistiche, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. L'impegno chiesto al Governo è di promuovere la diffusione dei defibrillatori presso tutti i luoghi pubblici di aggregazione, ad oggi sprovvisti, sostenere le associazioni, le società sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale, sia con concessione di contributi economici in favore di quanti partecipano a corsi di formazione, finalizzati a rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del defibrillatore, sia mediante un rimborso spese per l'acquisto di tali apparecchiature. fino al massimo del 50% della spesa ammessa e comunque entro il limite massimo di 800 euro per ogni defibrillatore acquistato.